... Lasciamo le mani a Don Tomasino. Michele, non ne stai andando così lontano da casa. Lo sai che sono il responsabile e io ho la tua vita con il tuo padre, no? Ci sono calmo, Fabrizio. Ma non basta, lo stesso è pericoloso. I nostri amici di New York hanno avvertito Santino. Sembra che i vostri nemici lo sanno che tu sei qua. Santino, ti dissi quando poto tornare? No, ma non è cosa per ora. Per ora non se ne parla, più tardi casomai. Grazie. Che a un ne vai ora? Colioni. E perché non peghiamo la macchina? Non voglio camminare. A cura! Michele, Corleone. Non lo so, i mascoli. Sono morti tutti per vendetta. Ecco, i nomi dei morti. Ehi, America! Take me to the America, G.I. La miseria, la miseria, la miseria. Mamma mia, io sono cascato innamorato. Ma vado su per la montagna. E' che sei rimasto colpito da un uomine. Michele, lascia bella. In Sicilia le femmine sono come a Lupara. Principale! Un po' di vino. Vino, questa è una bottiglia di vino e una piccata. Salutiamo, signor. Ha fatto buona caccia. Conoscete tutti i carotti del suo paese? Anche in noi non abbiamo incontrato qualcuno di bella. Una in particolare ha colpito il nostro amico come un fume. E' il nostro amico come un fume. Ma questa poteva sedurre magari al diavolo. Poteva sedurre. Poteva sedurre al diavolo. Comprendo approssimativamente quello che volevo dire. Ah, era bella, bellissima. Ah, calore? Bellissima. Tutta pari, eh? E' capite? E' la bocca? La bocca? Eh, in questo paese ci sono belle ragazze. Ma virtuose, eh? Sì, ma chi si teneva un vestito magari color prugna? E magari un fiocco in testa color prugna. Un fiocco in testa prugna. Poteva essere una bellezza magari più greca che italiana. Più greca che italiana. La conoscete? La conoscete? No! In questo paese non ci sono queste ragazze. e tutti i ragazzi. Viene avviene. Sì, che padre è. Viene tenecchia. Andiamo avanti. Viene vendevelo un po' di подi. Viene vendevole un po' di подi. Non si può? Sì, che è il mio figlio? Ti c'è i figli? Ti c'è i figli? Ti c'è il mio figlio? Ti c'è il mio figlio? Non si può? Ma che c'è i figli, ti arredo? No, non. Ti c'è i figli. Mi cuorre una folgata. Non si può? Ma no, non si può? Mentre ci rastele. Sentite! Che volete ancora davanti a mia? Dai, non è paese l'entite da noi! Venite, capo è compreso. Fabrizio, traduci per me. Sì, signor. Ci dispiace se l'ho fece. Strangere in questo paese. E non volevo mancare il disrespetto, né a lei né a vostra figlia. Ma qui hai chiesto? E che parla di mia figlia? Un americano che si è nascosto in Sicilia. E si chiama Michele Corleone. Ci sarebbe parecchia gente che pagherebbe paghesse piccoli per le informazioni così. Ma allora vostra figlia perderebbe un padre. Invece di guadagnare uno sposo. Ah minchia, ma sei innamorato davvero. Vuole conoscere la vostra figlia. Con il suo permesso. E con il consenso di tutta la famiglia. Con tutto il rispetto, naturalmente. Venite domenica, mattina. Mi chiamo Vitelle. Abito in campagna. Vicino a Siume. Grazie. E come si chiama la vostra figlia? Apollonia. Bene. Grazie. Grazie.